Facciamo un esterno oggi? Oggi facciamo un esterno. Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Come potete ben vedere dal tempo esterno, la nebbia si è presentata come da previsione, accuratamente fatta ieri pomeriggio. Buongiorno. La nebbia credo graverà sulla città per l'intera giornata, viste le condizioni previste. Abbiamo quasi una totale assenza di vento, le correnti sono occidentali nella parte della padana orientale, mentre sono meridionali nella parte sud. Ci aspettavamo forse una domenica migliore, ma naturalmente queste sono le previsioni. La cosa si proterrà per l'intera giornata, come ho detto precedentemente, e credo che anche i prossimi due o tre giorni la situazione non si modificherà di tanto. Durante la settimana, come avevamo prospettato, ci potrebbe essere un peggioramento delle condizioni, ma al momento non è ancora prevedibile. Sostanzialmente le temperature diurne rimarranno nella media stagionale, avremo forse un abbassamento delle minime con qualche gelata notturna a metà settimana. La marea è rientrata nei limiti previsti, credo che questa situazione ci traghetterà sino a Natale. Poi si vedrà. È un peccato che la giornata sia così, speriamo che ci sia una schiarita nella nebbia per avere una domenica un po' migliore, vista la festa che si concentrerà qui in centro, dove le attività si stanno preparando. Speriamo che i luminarie vengano accesi, visto che le sei sono mancate. E basta, insomma. Vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo presto. Grazie.